A me sembra una cosa molto bella e mi fa da un lato però anche piacere essere io e non lui a parlarvene, perché lui da un lato avrebbe avuto questo entusiasmo assoluto che però è quasi meno credibile a vederlo sull'autore, perché appunto per lui questo è il libro per cui lui è venuto al mondo, per cui ha un attaccamento totale, la sua storia, la storia della sua vita, dei suoi morti, di tutto ciò che ci sta dietro. Mentre secondo me, io sono particolarmente contenta di essere io e parlarvene, che alla fine non ho tanti anni più di voi, perché forse posso darvi un contatto più diverso con l'esperienza di quello che è stato per me questo libro e passando attraverso l'esperienza dell'autore che è tutt'uno, perché io quando mi sono trovata davanti il libro, alla fine un po' come voi quando vi trovate davanti vi danno dei libri da leggere, vi danno lì un malloppo, alle volte vi piace, alle volte no, io più o meno faccio la stessa cosa per lavoro. Quando mi sono trovata questo libro di 450 pagine davanti, con una nota che diceva, raccontava l'esodo sulle pianuri pontine, dicevo boh, chissà io alla fine leggo anche per divertirmi, per appassionarmi, per trovare dei personaggi che mi riguardano, che mi dicono qualcosa, chissà se in questo libro lo troverò. Poi ho letto l'incipit e forse qualcuno di voi l'ha letto ce l'ha in mente, chi non ce l'ha in mente lo leggerà e già dall'incipit a me ha colpito tantissimo questa cosa perché è riuscito a catturarmi con solo la voce del narratore. Nella prima pagina non ci sono ancora i personaggi, non c'è ancora un evento che succede, non possiamo essere coinvolti dall'amore per qualche figura particolare o da degli eventi che accadono e ci trascinano, veniamo catturati semplicemente dalla voce del narratore. E questo perché io credo è la voce vera di Antonio Pennacchi, è la voce di come lui con tutto il suo lato di fragilità, di commozione, di dolore, di ferocia anche nel contempo, perché lui non fa sconti, quando racconta una cosa non ha la benché minima remora a raccontare quanto l'uomo può essere cattivo, quanto sono feroci i rapporti umani, quando anche tra fratelli ci si può rinnegare. E dall'altro lato però è sempre accompagnato da un profondo amore per ciò che racconta, che io credo sia un po' la dote del grande romanziere, di amare anche il grande dolore, per cui alla fine io quello che veramente mi ha impressionato è stato l'emozione di avere in mano un libro del genere, che io credo sia una cosa che i vostri fratelli, i vostri figli o che ne so, troveranno poi nell'antologia di scuola, perché è un libro che io ho letto come leggo un libro straniero, cioè con una forza, con dei personaggi. Dico, nonostante sia una storia raccontata distante da me, nonostante sia raccontata in due luoghi che io non conosco, non mi appartengono a tutti, nonostante questa la storia è talmente forte, i personaggi sono talmente vicini che in qualche modo mi riguarda. E io questo credo sia stato permesso proprio perché c'è un accento di verità fortissimo. È proprio la storia che l'autore non poteva non scrivere, che ha scritto malgrado se stesso, in qualche modo. Bene. Buonasera, sono Francesco del liceo scientifico Labriona. Volevo fare una domanda al signor Paolini. Secondo lei condivide l'idea di suo nonno rispetto al concetto di difficoltà di scendere dalla tigre? Allora, grazie per la domanda Francesco perché è abbastanza centrale proprio per tutto quello che ho cercato di fare nel libro. A partire dal titolo, infatti. Il titolo Accanto alla tigre ha un significato abbastanza preciso appunto. Stare accanto a qualcosa significa non salirci sopra, non starci troppo lontano. Dicevo prima, per me il problema è stato capire proprio a che distanza stare da questa storia. Accanto alla tigre viene da un'espressione che era molto usata, era molto in voga all'epoca. Era un detto orientale quello che voleva che chi montasse in groppa la tigre poi avrebbe avuto il problema di doverne scendere. Il problema non è cavalcare la tigre, è porsi il problema alla fine di scendere o arrivare fino in fondo. Quindi il detto orientale ammonisce gli uomini dal cercare di controllare le passioni così tanto da dover poi trovarsi a dover assumersene le conseguenze più tragiche. Alessandro Pavolini riporta un episodio raccontato da Romano Bilenchi, uno scrittore toscano che era molto suo amico, che era stato fascista come lui da ragazzi, aveva partecipato molto a questa rivista che aveva fondato Alessandro Pavolini che si chiama Il Bargello. Romano Bilenchi negli ultimi anni della guerra, dopo le leggi razziali, era diventato invece comunista e ha lottato anche per la liberazione di Firenze e nel dopoguerra è stato un intellettuale nettamente comunista. Avevano avuto un incontro Alessandro Pavolini e Romano Bilenchi nel 1943 quando appunto per molti italiani si trattò di fare delle scelte molto drammatiche e difficili. Romano Bilenchi aveva già scelto da anni di stare dalla parte della liberazione e si incontrò clandestinamente con Alessandro Pavolini, il quale gli consentì comunque di scappare dal suo ufficio senza catturarlo e gli disse appunto, Alessandro Pavolini disse a Romano Bilenchi io oramai sono montato sulla tigre e non posso più scendere, andrò fino in fondo. Mi chiedevi se io condivido questo, ma chiaramente non si tratta neanche di condividerlo o non condividerlo nel senso che le scelte delle persone sono difficili da condividere quando sono di fronte a delle tragedie come quelle a cui hanno portato. Penso, ho pensato, rileggendo questa storia, che in quegli anni molte persone si siano trovate a immaginare e ancora a pensare, c'era una visione della storia molto diversa da quella che abbiamo noi oggi. C'era una visione della storia che era quella dei primi del Novecento, quando il modernismo portava gli individui a pensare di poter ancora fare veramente la storia con i propri gesti, ancora veramente spostare il confine della storia, fare il paese, immaginare che attraverso la propria azione si riuscisse a modificare fortemente la storia. Questa è un'illusione o comunque un atteggiamento umano che in quegli anni del Novecento è stato particolarmente forte, infatti ha dato vita a tutti i totalitarismi, cioè i totalitarismi sono basati su un'idea di qualcuno che pensa che a costo anche di vittime, repressioni e violenza, questo possa portare a un miglioramento del proprio paese nella storia. Questa è stata l'utopia drammatica alla base di tutti i regimi totalitari e Alessandro Pavolini in questo è stato totalmente fedele a questa impostazione. Infatti poi la sua figura è così emblematica nel fascismo proprio perché a differenza di altre figure storiche che hanno fatto il fascismo, insomma gli altri gerarchi, è stato particolarmente irremovibile nell'immaginare che una volta appunto saliti in groppa alla tigre bisognasse arrivare fino in fondo. Io alla luce dei fatti di oggi non lo condivido, cioè penso che oggi noi siamo piuttosto sedotti dalle figure intransigenti perché chiaramente l'intransigenza e la coerenza sono due tipi di valori che non riscontriamo praticamente in nessuno e soprattutto nelle figure istituzionali, nei politici eccetera. Quindi ci sembra un tratto eroico molto distintivo e questo seduce molto. Io trovo che questo, e il senso del mio titolo vuole essere anche questo, trovo che questo sia particolarmente sbagliato, cioè tutte le generazioni che si sono illuse nel novecento ma anche prima di riuscire a salire in groppa la storia e portarla dove volevano loro non ci sono riuscite, hanno dato solo vita a movimenti di violenza politica che sono stati più drammatici all'inizio del secolo ma poi sappiamo anche negli anni 70 non hanno fatto poche vittime e non sono mai riusciti a cambiare la storia neanche di una virgola se non, cioè l'illusione che era alla base del loro gesto non si è mai compiuta in nessun caso e questo purtroppo la storia sappiamo che non insegna niente alle generazioni, però io come scrittore cresciuto in 40 anni di pace europea posso pensare che questo atteggiamento non è da condividere oggi. Buonasera, sono Filippo Martinelli e vengo dal liceo classico sperimentale Bertrand Russell. Una domanda per il signor Pavolini. Cosa pensa delle persone che definiscono il suo libro un nuovo mezzo per fare ancora politica? Allora